Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 13 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su Fuzzimib, su due mercati. Quanto detto sia venerdì che nell'analisi di ieri, si sta concretizzando a mercato, anche se come sapete i future vanno controllati alle 9.01 quando poi c'è l'effettiva apertura. Il fatto sta che comunque siamo a più 200 punti, 214 punti rispetto alla chiusura di venerdì e quindi viene confermata sia in generale la chiusura del t settimanale a 11 t-3 che nella realtà di fatti anche la partenza di quello che per ora, l'ipotesi principale che abbiamo, è un raccordo. Oltretutto, caspita che partenza, se dovessimo aprire a più 215 punti come in questo momento saremmo in area 12 835, saremmo qua sopra, figurateli. Ed andremo peraltro potenzialmente in chiusura di t-inverso. E dopo che chiude un t-inverso che cosa può partire? Anzi, ce l'ho ancora qua, sì. Dopo che chiude un t più 1 inverso, o anche solo un t inverso, o un t più 2 inverso a tre tempi. Ragionateci bene, ok? Anche perché dipenderà da dove chiuderemo. Se chiuderemo sopra questo massimo, se andremo sopra questo massimo a 12 842, la possibilità di un tretempi, caspita, sarà decisamente interessante e anche l'eventuale discesa che ne seguirà. Per il resto, qui, appunto, può essere partito il nostro raccordo finale per la chiusura del t più 3 trimestrale. Vediamo. In ottica di massimo, come detto, tutto sta andando esattamente come d'attese. Tutto qua. Passiamo al Fuzzimib. Fuzzimib stessa identica situazione, l'apertura sarebbe, teoricamente, si è confermata a 345 punti in più, in area 20.103. Eccoci qua. Qua siamo un po' sotto rispetto al massimo che abbiamo avuto a 20.222. ma a 100 punti, come sapete, basta l'arrivo di un HFT per portarceli a casa. Ed anche in questo caso, la squadra tua è leggermente diversa, ma neanche tanto, perché se avessimo chiuso, no, qui non mi piace, è sempre qua comunque, niente da fare. Qui è tranquillamente possibile che sia partito il sesto t-3 inverso. Il sesto giornaliero inverso. è dalle 13.15. Per cui, anche in questo caso, abbiamo che si può andare tranquillamente in chiusura di settimanale inverso, con tutte le condizioni e le riflessioni del caso, perché nella realtà dei fatti ci va poco a fare determinate riflessioni successive, esattamente come per il DAX. Direi che questo è quanto, quindi, attenzione, perché finita la spinta di alzo dovremo vedere che cosa succede. In questo caso siamo già in Death Cross, mentre invece nel caso del DAX ci siamo andati, ma sono molto parallele per ora le due medie mobili. Ovviamente subiranno, la rossa subirà un'accelerata con l'apertura che avremo, però poi, attenzione. Per il resto, io ho già deciso che sarà una splendida giornata per me, come da giovedì in avanti e come tutto il weekend, che è stato effettivamente validissimo. Tante buone notizie, tante cose interessanti. Decidete anche voi che tipo di giornata volete e poi fate trading. I'll give you that with you.